Benvenuti in questo video, sono il giorno 5, siamo su Clash Royale Sono andato un po' avanti, infatti ho fatto un po' di trofei Non salito più alla classifica dei Goblin perchè appunto la toglieranno Questa dei Goblin, quindi la voglio terminare prima che la termino Questa è una ricompensa finale Prima di partire, partire col video e farvi vedere le cose Se per caso non vedrete questo video e vi registro un altro video in cui vi spiego che non ho potuto registrare il video perchè non ho utilizzato l'audio Non vedrete questa parte e non vedrete l'attacco che faccio per arrivare alle 4000 trofei Che è l'ultimo grado di trofei, quello dei Goblin E dopo non vedete il progresso fatto sul momento Vi farò vedere qualche partita ma in metà normale Perchè non voglio uscire sotto i 4000 perchè non so se arrivando a 4000 dopo le perdi te le toglie Quindi non lo so Nel dubbio non ci scendo Perchè almeno ho completato la campagna Goblin Quindi l'ho fatta dal massimo, l'ho fatta dal massimo e l'ho completato Quindi adesso prendiamo le ricompense Ok Di livello 1 Poco oro però va bene lo stesso Sempre meglio che niente Poi se andiamo di qua Ecco posso prendere questi qua Che li prendo molto volentieri La leggendaria Neil 3 cose le ho comprate Su 6 3 cose su 6 le ho comprate Ok Qua c'è il Drago Elettrico Evoluto Che ancora non ho perchè devo avere i frammenti Quindi devo aspettare Poi qua c'è Ah qua c'è l'offerta dei Della nuova truppa che ho già sbloccato Adesso vi faccio vedere che l'ho sbloccato Adesso vi dico prima di andare avanti Questo video lo sto leggendo prima Quindi magari in questo caso c'è ancora la campagna Goblin Però quando lo vedrete forse non c'è più Non lo so Non so quando la tolgono la campagna Goblin Ha detto che la toglievano però non so quando Quindi se vedete che sto facendo un video Che sembra che ho delle cose Che durante il gioco non ci sono mica Perchè magari sono finite Quindi non vi preoccupate Ok vi faccio vedere Vediamo la nuova truppa Goblin Stain Che è una data gratuita all'inizio Quindi sblocca il primo livello Suo all'inizio Livello 11 Potrebbe potenzialo O acquistare le offerte Oppure hai molta fortuna Perchè i campioni ci riescono In maniera troppo fortunata Quindi Questo è Goblin Stain Che c'è il Goblin Frankenstein E lo scienziato Lo scienziato ovviamente controlla il Goblin Frankenstein E vi spiego la carta E poi se usi il suo potere Usa la scossa per colpire tutti i nemici attorno E anche la torre davanti Fulmina tutto Quindi è tutto collegato Perchè vedi l'apparecchio qua davanti Collegato alla testa del Goblin Stain Quindi Sì Alla testa del Goblin gigante E quindi Fa Fa la conduttore Quindi Vabbè Poi ho portato L'orda di Scheletri Questa qua A due stelle Dovevo portare altre stelle Solo che costa 20.000 Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' Non volevo potenziarlo subito L'orda di Scheletri Però Per sbaglio l'ho potenziato Quindi Vabbè l'ho portato anche a livello 14 Quindi Insieme al curso del Drago A due della Trupa Perchè questa Trupa Questa Trupa è tutta 14 Cioè al massimo possibile Perchè tutte 15 E bisogna soppare Per avercela Poi Cioè per avercela Nel senso che E' difficile da tenere Perchè siano troppi giolli Quindi Ci giocherei A questo gioco all'infinito Invece voglio determinarlo il gioco Voglio dare un obiettivo al gioco Infatti lo terminiamo Quando avrò raggiunto Il mio obiettivo Cioè fare tutte le carte al massimo Almeno 14 A parte i campioni Che forse la regina La porta al 14 15 Però non sono sicuro Perchè ancora la regina Devo trovare delle altre Tutto il resto Tutte le leggendari Tutte le epiche Rare Comuni Tutte al 14 Sperando di riuscire a portare Anche quelle nuove Tipo la medizione goblin Il Goblin Voglio bloccarle Almeno un altro Almeno A posto del 12 Naturalmente il gioco Lo posso cancellare A più dopo Naturalmente più avanti Potrei dire valla Ci rigiochiamo un po' Per cambiare un po' Ma Per un po' Magari mi fermo Perchè Se no mi riempie la memoria E gioco poco Perchè Gli obiettivi La cosa che devo fare L'avevo fatti Perchè Potenziale carte al massimo Possibile Fino a 14 A parte i campioni E forse E forse Qualche Legendali Perchè Non so se Potenziarle tutte Tipo la fenice Ne ho solo 7 su 4 Quindi Faccio un po' Fatica Anche la macchina goblin Ne ho 7 su 4 Quindi Figuratevi Potenziarlo Vi ascioppare Per vere le cose Quindi Niente Ragazzi Qui O scioppi O scioppi Comunque dai Manca l'arcoizzo Da potere 14 Le guardie Da potere 14 E poi passiamo Alle leggendarie Tutte le epiche Lo potenziate al massimo Fino alle epiche Dalle comuni Alle epiche A parte Neil Malezino e goblin E ce n'è Ah C'è qui Il sospetto E Il goblin Il monitore Che non so Dove sia Goblin Il monitore Ah Non è il deck È vero Qua Questo qua Quindi Sì Va bene Ok Apriamo Il bowl Vai Mi stai registrando L'audio Se no Mi tocca rifare Il video 33 Bombaroli Che non mi servono 108 Goblin Che non mi servono 108 Maggiatoni Che non mi servono 80 Macchine volanti Che non mi servono Vedi Le cose Ti danno Sempre quelle Che ti mancano Quindi è un po' Difficile Avere Tutto al massimo Io ci provo L'obiettivo È arrivare A portare tutte le cose Al massimo Possibile Perché Quello possibile E Arrivare Alti In classifica Nelle coppie Quindi Quello sarebbe Da fare Bisogna Le carte Potenziate Con questo deck Adesso Useremo Questo deck Per andare A per fare L'ultima battaglia Che serve Per arrivare 4.000 Trofei Sperando Riuscire A vincerla La vede Qua La cosa La classifica Primi Ok Insomma Arrivati Primi Perfetto Devo Anche io Aiutare La squadra Perché Sennò Non Non Arriviamo Primi Dragoletti Che ho voluto Eh Questa Dovrei Provarci Due giorni Tre Dici Ho Tempo Per farla Devo fare Questo qua Dell'evento Devo fare Anche Quelli Della Guerra E Devo fare Una Battaglia Su questa Modalità In termini Dei commenti Se dovete Vedere Anche La Guerra Tra clan Se dovete Vedere Qualche Episodio E Questa Qua Questo Evento Qua Dove Devo Prendere I punti Punti Stagionali Questi Qua Gettoni Stagionali Quindi Detemi Se dovete Vedere Anche Questi Ma Non Mi Sembra Che Mi Interessi Quindi Secondo Devo Portarvelo Ok Con questo Deck Proviamoci Vi faccio Vedere Come Funziona Abbastanza Dicente Possiamo Dire Quasi Il Goblin De Monitor Cero Quasi A 14 Ah E' Vero Ci ho Portato Il Marmocky Goblin A 14 Quello È Al Massimo Così Prima Che Finisse L'evento Abbiamo Il Goblin Marmocky Goblin A livello 14 Che Fanno Un po Di Difesa Vabbè Le altre Ci abbiamo Il 12 13 14 Quindi Ci abbiamo Un po Di Tutto Dovrei Portare Il Cannoniere Al 14 E La Ducasse Di Pugnale Al 14 Però Sto Aspettando Perché Se le Trovo Nei Pauri È Meglio Vabbè Facciamo la Battaglia Siete Pronti Se non Mi Sto L'audio E Il Video Se non È Da Buttare Vediamo Mon 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 Gel Ben Nome Comunque Vabbè Buttiamo La Capanna Goblin Per Difensile Dietro Ah Tu C'è Quella C'è No C'è Quella Nel Deck Dai Colpite Tutto C'era Il 12 Il 12 Passino Però I Quelli Lì Me Le fa Fuori Comunque Ok Quello Lì Dove Andare Giù Ci butto Un Goblin Demoniatore E La Goblin Si può Tenere Va Vedere No Me La Butta Giù Vai Giù Pecca Il Pecca Mi Da Fatidio Ok Mettiamo La La Capanna Fate Colpire Perfetto Devo buttare Valkyrie E Gran Cavaliere Perché Se no Non riesco Oh C'è La Capanna La Cap Per Goblin Evoluta Buttiamo La Valkyrie Perché Ah Ma C'è L'E Quindici Qua Siamo Queste Davanti Adesso Buttare Il Pecca Lo Sapevo Che Buttavi Pecca Seconda Non Lo Sapevo Dai Dai Che L'ho Buttato Giusto No Ancora Con La Capanna Lì Ok Vai Goblin Vai Goblin Vai Goblin Bravo Ho Recuperato Un Pochino Adesso Non dovevo Più Vare Il Pecca No Ce l'ha Ancora Il Pecca Ce l'ha Ancora Vai Goblin Fai Danni Ok Io So Grancavedere Evoluto Vai Di Grancavedere Evoluto Questo Lo Fa Fuori Oh se riesco Oh è difficile Sta battaglia È l'ultima È l'ultima Difficile No Perdo Perdo Eh ho perso Vediamo se riesco a farvi la vittoria Entro il tempo Limita 12 Minute Due trofei E basta Ho perso Va bene Ho preso la ricompensa Ok Apriamo questo pool Due stelle Ah ce l'ho già Ok Livello 28 15.000 punti Ok Devo arrivare a 20.000 Quindi Per potenzialmente L'uva degli scheletri Dorato a tre stelle Sarebbe stato meglio Se avessero fatto Tre stelle Per ogni personaggio Però Tre punti stelle Per ogni personaggio Però Ogni stile Tipo Il primo bronzo Il secondo Il d'argento Il tazzuolo Magari fare anche Platino E diamante Cristallo Non parliamo di queste cose Perché adesso Dobbiamo pensare A A fare una Uno o due vittorie Dipende da quante Ce le servono Voglio passare Questo Voglio fare un video In cui passo All'ultima Arena In video Vai Putta giù Grancavaliere Se non mi rigesta Il video Secondo me Se non registro Ce la faccio A passare Il livello A passare La prova Torno Infernale Vabbè Se io ti butto Il grancavaliere Qua in fondo Che ne pensi Ce l'ho Il 15 Che ne pensi Vai Valkyria Bravo Goblin E la recuperiamo signori La recuperiamo E non ci crede nessuno Quando il Gran Cabello è evoluto C'è anche lui il Gran Cabello è evoluto Devo stare molto attento Andiamo di Goblin dall'altra parte Per cui si mette male La tronco, tattica E andiamo di questo Di Gigante Goblin Andiamo di Goblin sopra taniere 2 Tu sei pazzo Valkyria è evoluta Vai Vai Valkyria è evoluta e fa danno Ok Capanna Goblin lì Gran Cavaliera Due Gran Cavaliere evoluti Goblin si può attenere Nooo quello Devo stare a non cliccare il tasto della registrazione Perché Ok l'ho badato L'ho badato La tronco Ah quella Torn infernale Che non è servita niente Praticamente Vai vai Goblin Gran Cavaliere Nooo la tron infernale Eh vai giù Da tron infernale Ok No Gran Cavaliere è evoluto È che ti manca poca vita Vai giù Credo che mi dia 31 trofei Così almeno arrivo al massimo Però mi tocca fare un'altra partita Però ci provo Ok Vai di Gran Cavaliere Dai che vinco io Ho vinto Eh buona fortuna a te Ho vinto io Eh sì 29 No Non ci credo 29 trofei Non mi puoi dare 29 trofei 31 devi darmene Per due trofei Non 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 passa All'ultima Lega Tre stelle Ok Questi Ok No Mi tocca fare un'altra partita Oh Vi dico Un'altra partita Vediamo se riesco a passarlo Perché È l'ultima fase di questa arena Non so se vi farò la stessa cosa Per la classifica normale Però per questa Volevo provarci Se non mi registrai il video L'audio L'audio e il video stesso Io mi arrabbio No ancora tu Ok l'avevo buttata giù Andiamo di E continua ad andare avanti E continua ad andare avanti Ok Non posso più Non posso più Non posso più rifarvelo vedere Passaggio di arena E anche il bauro che sblocco Perché anche quello Perché anche quello Andiamo di Questo E andiamo di Gran cavaliere È voluto Adesso lo butterà La torre infernale Torre va giù Grazie a lui È andata giù la torre Perfetto Siamo arrivati Nella Nell'ultima Lega dei Goblin Oh Ve l'ho fatto vedere Se non potete Mettere giusto Le video Ok Ho preso una cara Ricompensa Ok Prendiamo questo paura Ok Perfetto Questo mi piace 70 comuni Nella sfida Del ghiaccio 19 rari Mi dà Questo Buono Questo Anche se fosse Per il più sospetto Perché me ne siamo Di più di quello Epici Ce l'ho già Non mi serve Leggendario Ok E' uguale Non mi cambia niente E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale Che sono di meno 25 E' uguale Non mi cambia niente Dura al massimo C'è 14 Più caldo Ok Allora Regina 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 Sì Sì la regina Oh Me ne mancano 11 La voglio portare al massimo La regina Però non so quanto ci metterò Infatti vorrei terminare Anche questa carta A livello 15 Ho 4000 presi Quindi se per caso Vedete Che non Ah posso fare Una partita In palazzo Ancestrale Che è l'area 5 Dei goblin Perché sono 4027 Io pensavo 4000 è preciso Dove essere Invece con 3027 Quindi sono anche più in alto Sperate che mi abbia Registo il video La ricompensa Ok Prendiamo la ricompensa Prendiamo l'oro Perché tanto non ci serve Ok Prendiamo questa ricompensa A 20 jolly Apice Ok Enzo dorato Perfetto 20 veleno Preferivo Neil Veneno di goblin Però va bene Non so come si chiama Maledizione goblin Ok Però va bene lo stesso Poi Cos'è Cos'è che abbiamo sbloccato Allora la finisce Ah e la regina Adesso abbiamo La regina Adesso faccio vedere Qua 9 su 20 Ne mancano altre 11 Credo che sbloccare la regina 14 al 15 Sarebbe ottimale Perché almeno avrei un campione Al 15 Quello sarebbe l'importante Gli altri sono da Shoppare Quindi non voglio shoppare Quindi Non lo posso fare Quindi io farò In questi episodi Farò In questi giorni Con le proseguite Di giorni Farò la regina Fino a 14 e 15 Poi le epiche A 14 Le leggendari Almeno al 13 Le rare Almeno al 14 13-14 14 Deve portarle Se le richiedo un po' E le trovo Le posso portare a 14 E Basta Questo sarebbe l'obiettivo Perché i comuni E le rare E le epiche Quelli che hanno potenzione Tante Infatti tutte le altre Sono a 14 Vedete qua 14 E alcune a 15 Quindi Ho due leggendari Al 15 Quindi Tanta roba Quindi per dirvi Che appunto L'obiettivo Non è portare Le carte al massimo Perché se no Doveste shoppare Le poterle al massimo Semplicemente Devo Devo portarli Al mio interesse Senso quello Che mi interessa A me Io voglio Potenziare Almeno al 14 Tutte le carte Apparate i campioni E Le epiche E le leggendarie Almeno al 13 Anche se Rai bello portarle Tutte a 14 Però per trovarle Bisogna avere Molta fortuna E forse non mi servono Perché io non userò Quelle carte Vi faccio vedere Il mio deck principale Cammino dei trofei Questo è il mio deck principale Dovrei Evolvere il drago elettrico E metterlo Al posto Del gran cavaliere Perché il drago elettrico Che ho voluto È molto più forte Secondo me Anche se è epico E il gran cavaliere Legendario Però secondo me Se metteranno Tre leggendari Nel deck Da poter utilizzare Tre Non tre leggendari Tre Evoluzioni Da utilizzare Nel deck Allora sì Potrei utilizzare Potrei utilizzare Potrei usare Il drago elettrico Il gran cavaliere E la valkyria C'è un'altra Evoluzione Di queste carte Che ho qua A parte la regina Che non avrà Evoluzioni Perché non penso Che un campione Abbia evoluzioni A meno che Non lo metteranno Più avanti Ma non lo so O prima Che io Smettere di giocarci Perché l'obiettivo È arrivare A portare Tre carte A livello Che vi ho detto Prima Anche Le carte Le torri Manca La ducasse Le pugnale E i canoniere Poi sono a posto Perché al 15 Magari si porta La principessa Al 15 O magari Se arrivo A 14 La ducasse Le pugnale Potrei portare La ducasse Le pugnale Al 15 Ecco Potrei fare così Così almeno Avrei La ducasse Le pugnale Al 15 Magari O potrei Tutte tre Al 15 Il mammocchio goblin Non penso Che lo otterrò Al 14 Perché non penso Riuscire a fare in tempo A portarlo al 15 Però il resto Potrei portarlo Al 15 Quindi Mi darò una mossa Vedrò di farle Di accumulare Risorse E lo poterò Al 15 Quindi niente Io sono arrivato A 4.000 Ho superato I 4.000 trofei Vi faccio vedere 4.027 trofei Che è l'ultima arena Ho sblocato L'ultimo trofeo L'ultimo baule Voglio dire E Quindi sono arrivato A Alla Mappa 5 Dei goblin Quindi sono Potenzato Al massimo Con Con i Trofei Dei goblin Ora Ora tocca fare Solo cammino Di trofei E percorso Le leggende Che Devo Devo giocarsi Un po' Perché adesso Vi farò Se riesco Vi faccio Un episodio Ad arena Per cammino Di trofei E per Percorso Le leggende Qualche episodio Ogni tanto Per farvi vedere Che punti sono Anche perché Punto 8 Ti risetta Quindi ti Ti abbassa I trofei Quindi non so Quanto Vediate Io ci provo Provo a arrivare Su classifica Se ci riesco Bene Se non ci riesco Ho fatto quello Che potevo L'altro obiettivo Non è arrivare davanti In classifica Semplicemente Gareggiare E divertirsi Un po' E giocare L'importante È potenziare le carte Questo è l'importante Perché almeno Ho un account Mazzato Quasi ammazzato Perché al 15 Non posso mica Portarcele tutte Perché Sto qua a giocarci Ore e ore Perché ne porto Una al 15 Ogni 5 mesi 6 mesi Per troppo tempo Quindi non ha senso Portarele tutte al 15 Mi penserebbe tanto Perché sono un completista Quindi Completare le cose Mi piace Però Non Non posso portare A tutte al 15 Mi richiederebbe Troppo tempo E ho bisogno di spazio E quindi Questo gioco Deve essere tolto Per questo Vi dico Che appunto Farò il massimo Possibile Possibile Perché Quello Potrei fare Un po' di più Ma Dovrei giocarci Per tanti giorni Sarebbe Insensato Perché Non andrei avanti Non farei progressi Ma non glierei giocare E quindi Non avrebbe senso So che sono in un clan E quindi magari Dovrei Continuare a giocare Perché sono in un clan E dovrei aiutare la squadra Però Se finisco il gioco Finito Non c'è n'altro a fare Se ne aggiungono nuove cose Tipo il dragoletti Che ho voluto Che vorrei prendere Ma Non lo so se ricordo Prenderlo Va bene Io vi chiudo qua Perché c'è un po' di casino Quindi Like Commenti Condividere Ah mettiamo Mettiamo un attimo Il cammino dei trofei Ok Sono al cammino Del Dei goblin Sono arrivato al massimo Quindi Abbiamo finito i goblin Prima che Cancellassero l'evento Ora siamo a cabina dei trofei Arena 19 Che è quello dei drago Temi dei draghi Questo qua Arrivare all'arena 20 Che è Campo e desastramento Anche se il campo e desastramento Dovrebbe essere all'inizio Addestramento Però Va bene Lo scopriremo più avanti Quindi Like Se la serie vi sta piacendo Un commento Condividere Inserire il canale E noi ci vediamo al prossimo video A presto Grazie a tutti Grazie a tutti